Salve a tutti. Cari spettatori. Oggi siamo qui per parlare dell'ultimo colpo di scena nella vita di Belen Rodriguez. Sembra che il cambiamento sia all'ordine del giorno. E questa volta riguarda la sua dimora. Ma prima di svelarvi tutti i dettagli del suo nuovo superattico a Milano, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità riguardante le celebrità. La notizia che Belen stesse cercando una nuova casa non era un segreto per nessuno. Già in passato, insieme all'ex marito Stefano De Martino, aveva deciso di traslocare dall'appartamento in zona Moscova a Milano. E ora, finalmente, quel desiderio sta per diventare realtà. Belen Rodriguez ha deciso di cambiare nuovamente casa. Ma questa volta, è diverso. La showgirl 39enne ha condiviso con i suoi milioni di follower su Instagram il nuovo superattico in cui si trasferirà presto. E posso dirvi che è davvero uno spettacolo. Belen è andata a visitare la nuova dimora insieme ai suoi due figli, Santiago di 10 anni e Luna Marie di 2 anni. E probabilmente non è da sola. Il suo compagno, 40enne, sembra essere parte integrante di questa nuova fase della sua vita. Ma non è tutto. L'Argentina si è fatta accompagnare anche dalla sua sorella Cecilia e dalla madre, Veronica Cozzani. E mentre cammina sul grandissimo terrazzo del lattico milanese, Belen non nasconde la felicità. New Home scrive con un sorriso sulle labbra. Dietro di lei, vedete il suo clan, vicino a una costruzione con grandi vetrate. Questo nuovo appartamento sarà luminosissimo e molto aperto. Molto diverso da quello in cui ha vissuto fino ad ora. È evidente che Belen Rodriguez sta vivendo un cambiamento radicale rispetto al passato. Al momento, non ha un contratto in tv e ha addirittura rinunciato all'invito di Alessandro Cattelan al suo talk show su Rai 2. Inoltre, si è allontanata da Milano e dai social per più di dieci giorni. Scatenando molte speculazioni sul suo stato di salute. Alcuni dicevano che si fosse trasferita in provincia di Brescia da Lorenzoni. Mentre altri ipotizzavano che fosse ricoverata in una clinica a Padova. Insomma, Belen ha mantenuto un alone di mistero intorno a tutto questo. Ma ora è tornata nel capoluogo Lombardo. Mano nella mano con Elio. Questa nuova fase della sua vita sembra essere un tentativo di allontanarsi dal clamore e dai riflettori. Alla ricerca di quella serenità che, forse, le mancava da troppo tempo. E tutto inizia da questa nuova casa. Un passo importante per voltare definitivamente pagina e cercare di essere pienamente felice. E qui si conclude il nostro aggiornamento sulla vita di Belen Rodriguez e il suo nuovo superattico a Milano.